Io, Maria Carlotta Noè, ho fatto un provino per Gruppo ST e ho richiesto di essere valutata dal loro management e sono stata reputata idonea e quindi già professionale e per questo motivo ora faccio parte del Gruppo ST senza alcun vincolo e l'unica cosa alla fine del lavoro riconosco una provvisione del 15% a Gruppo ST sui lavori che eventualmente avrò da loro.